Mauro Lancioni, 62 anni, ex dirigente padre di tre figli, vive a Marina di Carrara con la famiglia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per contribuire a risolvere i problemi di tutti i cittadini e non solo di una parte. Nella certezza che chi è delegato a farne gli interessi debba essere prima di tutto trasparente e onesto. Sonia con De Pasquale sindaco di vedere attuato un cambiamento radicale della classe politica locale che ha amministrato la città per decenni con i risultati attuali.